Tutto bene? Tutto bene. Sto risultando tranquillissimo? Beh dai, tranquillissimo no, però non sono me la sono per dire. I digitali saremmo sempre più racconta, no? C'è la mano. Mi piacerebbe, questo che credo lo fai, è il risultato più buono. È il risultato più bello il fatto che alla gente piaccia, quindi per me è già una vittoria. E' già tutto pronto, deve solo uscire tutto. Ma non so, dai, farò in modo che però non sia. Allora, prendo l'impegno con noi, non facciamo passare in giù un tempo, ma in generale, vedendo su qualsiasi palco. Assolutamente, d'accordo. Grazie mille, 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 grazie mille. Andiamo, 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 grazie mille, 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 grazie mille